buongiorno bambini oggi sto pensando di presentarmi a voi con una fiabba tratta dal libro incredibili magie e fantastiche avventure pubblicata da tomole di gioia edizioni allora vi voglio leggere la scatola del tesoro un'ambile pirata di nome safar stava ritornando da un lungo viaggio durato anni ed era diretto verso la sua casa lontana aveva lasciato la moglie e il figlioletto di appena due anni il piccolo amir al quale aveva promesso che al suo ritorno avrebbe portato in dono una scatola del tesoro safar amava partire sempre alla volta di nuove conquiste e a dire il vero nella sua famiglia erano stati tutti pirati da diverse generazioni il suo bisnonno suo nonno suo padre persino i suoi fratelli maggiori ognuno con quella vena nel sangue di andare per mare a conquistare nuovi tesori l'unica differenza che li distingueva dagli altri pirati che non si facevano scrupolo a fare del male con armi e pugnali ai naviganti durante gli assalti per le loro conquiste era il fatto che non erano violenti safar e la sua stirpe di pirati si limitavano a rubare soltanto e con un sistema semplicissimo quello cioè di addormentare i guardiani dei gioielli con un sonnifero il loro marchio di riconoscimento era una bandiera rossa e nera che sventolava in cima all'imbarcazione e per questa ragione erano chiamati i pirati rossoneri temuti non per la violenza ma per la loro incredibile astuzia durante quel lungo viaggio safar aveva vissuto avventure molto pericolose una volta durante la notte nonostante il mare fosse calmo improvvisamente un'enorme onda aveva fatto solbazzare l'imbarcazione il pirata si era accorto appena in tempo che a provocare l'onda anomala era una gigantesca orca marina che si dirigeva pericolosamente verso la sua nave senza farsi prendere dal panico aveva preso velocemente l'arco e le frecce che portava sempre con sé per difendersi in caso di aggressione gli aveva scagliato una freccia contro l'orca marina ferendola non a morte ma quel tanto che bastasse per farla fuggire a causa del dolore provocato l'orca era fuggita il mare era tornato calmo e safar aveva ripreso a navigare speranzoso di imbattersi presto in un'imbarcazione carica di preziosi finalmente qualche tempo dopo una sera si era presentata una bella occasione di preda imperdibile per un pirata come safar solcava il mare in quel momento una bella nave importante tutta illuminata e da dentro provenivano musica e canti come se all'interno si stesse svolgendo una festa in cima alla nave sventolava la bandiera reale di fatto si trattava di una nave reale che trasportava gioielli e tessuti per il fabbisogno del re e dell'intera famiglia reale safar si era reso conto che era il momento giusto per agire quale migliore occasione di questa gli sarebbe mai potuta capitare subito aveva messo in azione il suo piano di conquista aveva spento le luci della sua nave per non destare sospetti poi si era avvicinato con la sua imbarcazione quanto più era possibile alla nave reale dopo aveva gettato in mare la sua robusta rete da pesca costruita con uno spago molto grosso con nodi che era impossibile sciogliere tanto erano forti la rete da pesca era stata fatta apposta così robusta per accogliere pesanti bauletti ricolmi di pietre preziose ora che tutto era pronto l'astuto pirata si era tuffato in mare e complice il buio si era rampicato su una nave reale dove la festa era in pieno svolgimento quattro quattro si era portato nella stiva dove venivano tenuti bauletti preziosi sorvegliati a vista da due guardiani armati fino ai denti fortuna aveva voluto che in quell'occasione avendo bevuto abbondante vino per festeggiare insieme agli altri i due i due guardiani erano parecchio brilli e non si erano accorti della presenza di safar a quel punto il pirata aveva spruzzato vicino due uomini il suo inoco sonnifero i due guardiani dopo qualche istante erano caduti in un sonno profondo si sarebbero svegliati dopo qualche ora quindi aveva tutto il tempo per portare a termine la sua conquista assolutamente indisturbato c'erano almeno una decina di bauli con gioielli pietre preziose tessuti intrecciati con loro e c'era anche una scatola del tesoro semi aperta safar si era impossessato di tre bauletti di pietre preziose e della scatola del tesoro che conteneva i giocattoli per il figlio del re dentro la scatola c'era un trenino di latta colorato i soldatini di legno un pugnale giocattolo e tantissime biglie colorate ad uno ad uno ad uno aveva gettato in mare dentro la rete da pesca che era ancorata alla sua imbarcazione i bauletti e la scatola del tesoro quindi si era rituffato in mare e aveva ripescato il prezioso bottino conquistato trasportandolo sulla sua nave infine ancora lucispente si era allontanato con la sua nave fino a sparire dalla vista delle nave reale dove continuava ancora la festa era molto fiero di sé safar per la bella missione portata a termine ed era oltremodo orgoglioso di poter mantenere la promessa fatta al piccolo amir portandogli in dono una scatola del tesoro con i giocattoli destinati al figlio del re che di sicuro di giochi ne aveva già tanti aveva intrapreso a navigare lungo la via del ritorno per giorni e giorni quando in una notte di tempesta tra pioggia grandine e il mare molto mosso la sua imbarcazione si riempì improvvisamente d'acqua e affondò safar non pensò a salvare i bauletti con le pietre preziose l'unica cosa che strinse a sé come poteva prima di tuffarsi in mare fu la scatola del tesoro per il suo bambino nuotava annaspando tra le onde minacciose che lo facevano ripiombare sott'acqua provò a salvare la scatola del tesoro ma alla fine la corrente fortissima gliela strappò dalle mani facendoli inabissare dentro il mare profondo il pirata riuscì a salvarsi per miracolo estremato dalla fatica all'alba del giorno dopo si ritrovò sulla spiaggia di un'isola che non era quella dove avrebbe voluto approdare la sua terra era ancora più avanti ad almeno una settimana di navigazione lo soccorsero una famiglia di pescatori che lo rivestirono con abiti asciutti e lo sfamarono senza chiedergli chi fosse e da dove venisse dopo qualche giorno appena si fu ripreso il pirata ringraziò i pescatori e lasciò la loro casa per trovarsi un lavoro e guadagnare del denaro per vivere trovò lavoro come facchino al porto scaricava e caricava le merci e si guadagnava onestamente da vivere tanto che nel giro di qualche mese aveva accumulato i risparmi necessari per comprare una piccola vecchia barca con la quale avrebbe potuto riprendere il viaggio verso casa voleva a tutti i costi portare una scatola del tesoro al suo bambino ma non aveva soldi a sufficienza per acquistare i giocattoli così comprò al mercato una piccola cassetta di metallo e la riempì di conchiglie raccolte sulla spiaggia dentro le quali si riusciva ad ascoltare il rumore del mare finalmente dopo tre giornate e tre notti di navigazione sbarcò sulla sua isola e raggiunse la sua casa la moglie e il figlioletto amir che ora aveva cinque anni lo abbracciarono forte safar porse al bambino la scatola del tesoro raccontando le disavventure che aveva passato negli ultimi mesi dopo la conquista del bottino della nave reale amir gli gettò le braccia al collo e ammise che quella era la scatola del tesoro più bella che mai avesse ricevuto perché profumava di mare e dell'amore del suo papà poi il pirata si fece serio e comunicò ai suoi cari che non sarebbe più partito alla volta di nuove conquiste il tempo per fare il pirata era finito durante quei mesi in cui era stato costretto a lavorare per vivere aveva scoperto che il lavoro è una cosa bella che restituisce alla persona non solo soldi ma anche dignità e libertà e quindi concluse dicendo che l'ora in poi avrebbe lavorato e si sarebbe gustato ogni giorno l'affetto della sua famiglia il piccolo amir lo scaltava incantato ora era pronta la cena e in quel clima di gioia e di speranza per il futuro safar e la sua famiglia dopo un altro abbraccio si è detto dal tavolo a mangiare felici di essere finalmente di nuovo tutti insieme vi ho voluto raccontare questa storia bambini perché mi piacerebbe pensare che siete contenti di immaginare che il lavoro come dicevo nella storia è una cosa importante perché dà dignità e da libertà così che come vedete anche un pirata che ha scoperto nel momento difficile di che è che è meglio lavorare che non stare lì a biglionare o comunque a costruirsi diciamo delle cose con con l'inganno insegna proprio che è meglio essere 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 bravi a lavorare e ad insegnare ai propri figli appunto questo concetto di libertà questo libro si intitola incredibili magie e fantastiche avventure ha delle belle illustrazioni come potete vedere dalla copertina e racconta sei storie sei fantastiche avventure un'ultima cosa voglio dire bambini che è scritta anche nel libro pensate sempre a coltivare i vostri sogni perché attraverso i vostri sogni potete raggiungere ogni cosa ciao bambini un bacio